Ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati sul canale. Buon lunedì, perché per voi è mattina, per me è ancora domenica sera, ho finito di registrare il video, il vlog che vi ho portato su Paolo Di Bala e poi ho deciso di iniziare subito questo perché avevo dato troppe informazioni troppo frettolosamente e volevo ragionarci un po' di più, quindi ho deciso di farvi svegliare con una bella riflessione, ok, da respirare, fare tanti respiri e poi dire, ok Luca, adesso sono disposto a guardarmi un video noioso in cui parlare delle cose. Intanto nel video di Ken vi avevo fatto vedere il mio cappello, ve l'avevo fatto vedere anche su Instagram e su Instagram avevo puntato, avevo programmato, avevo caricato una storia nella quale vi dicevo che all'interno del pacco arrivato direttamente dallo Juventus Store coordinato online c'era anche una foto di Paolo Di Bala, aprendo il pacco in maniera frettolosa quella foto si era strappata. Eccola qua, sembrava dover essere una specie di segno del destino e adesso la andiamo a leggere insieme perché dietro ci sono scritte cose come caro tifoso grazie speriamo tu sia felice del tuo acquisto e all'interno la foto di Paolino con il pallone della Champions e questa strappata clamorosa che mi aveva fatto pensare a un addio, scusa Paolino se ho pensato a una cosa del genere, di Paolo Di Bala. Ok, ora non è ancora conclusa questa trattativa dato che comunque fino a giovedì Di Bala potrebbe potenzialmente tornare papabile come giocatore nuovo del Manchester United, a Manchester c'erano già i tifosi che giravano con la maglia numero 10, Rez sulle spalle dei Red Devils ovviamente perché qualcuno mi ha fatto notare che ovviamente Rez sono i Liverpool dei Red Devils con il nome Di Bala, il numero 10, che in realtà è di Rashford ma questo è un altro discorso, già consapevoli, già speranzosi, già vogliosi di abbracciare Paolo Di Bala nella loro squadra. Ora, io sono... ora è difficile parlarne così ragazzi, è complicatissimo perché io è da inizio anno che vi dico che per quanto mi riguarda Paolo Di Bala andrà via dalla Juve e nonostante la notizia fresca sia di questo scambio interrotto io sono ancora convinto che in un modo o nell'altro Paolo ci abbandonerà e mi dispiacerà tantissimo perché per quanto mi riguarda il livello di incongruenza in campo con Ronaldo siamo a livelli altissimi ok? Quindi Paolo e Ronaldo faranno fatica a coesistere ad altissimi livelli almeno che Sarri non sia davvero così bravo da piantarli in un 4-3-1-2 in modo da valorizzare a livelli incredibili tutti e due i giocatori, creare un mix, un'alchimia di questo dibaldo, all'estero va tanto di modo dal termine di baldo, qui da noi un po' meno, per farli splendere, per farli diventare due giocatori fantastici in armonia, farli giocare a memoria, a mena dito. Io sono convinto che Ronaldo renda molto di più con un centro avanti, con una prima punta. Non ero contento di Lukaku ma sono ancora convinto che la società proverà a vendere Di Bala perché comunque Di Bala è stato fatto capire che non è più benvenuto almeno che non sia stata una strategia solamente per invalidare il passaggio di Lukaku all'Inter dato che Lukaku ha flirtato con la Juve e quindi dopo all'Inter avrebbe fatto una figuraccia. Adesso siamo ancora una volta, mi dispiace dirlo sempre, però siamo sempre nel campo delle illazioni perché quando facciamo i video di calciomercato siamo sempre nel campo delle illazioni perché possiamo fare solo dei ragionamenti per cercare di capire. La Juventus è acceduto a Moise Ke, questo è ufficiale, lo sappiamo. La Juventus stava trattando Manzuki e Ci ribala con lo United. Manzuki ci potrebbe non saltare perché lo United potrebbe avere bisogno comunque di un centro avanti per sostituire Lukaku, potrebbe davvero pensare al nostro Marione. Paolo invece potrebbe rimanere la Juve, potrebbe essere inserito in altre trattative, potrebbe andare al PSG, potrebbe comunque andare alla United, lo impareremo durante questa settimana perché chiuderà il mercato inglese, il mercato francese non chiuderà questa settimana quindi avremo tempo poi per andare avanti ma dovesse rimanere Di Bala e Rosa, la Juventus si ritroverà quindi con in questo momento Di Bala, Higuain, Manzuki e Ronaldo per il ruolo di prima punta. Non c'è più Ken, probabilmente non ci sarà più Lukaku perché l'Iventus Lukaku lo avrebbe preso in uno scambio con Di Bala in modo da non sborsare altri soldi, di fare plus valenza con Di Bala. A livello economico sarebbe stato un successo e a livello di campo avresti comunque sostituito di Bala con un centro avanti che poteva fare comodo. Però se l'Iventus cercava un centro avanti significa che Sarri sa benissimo che Cristiano Ronaldo ha bisogno di quell'attaccante. Dovesse rimanere Higuain potrebbe essere un altro discorso. Ora, andiamo indietro nel tempo. Partiamo, andiamo, ok, con la mente, giriamo, giriamo, giriamo. Un vecchio video che avevo fatto qui sul canale. Avevo detto che avevo parlato con una persona molto affidabile che sa di cosa stiamo parlando. La stessa che mi aveva parlato di Cansello di questo incontro a Ibiza entro giugno in cui diceva che la Juventus la voleva cedere per fare plus valenza, poi è stato ceduto Spinazzola e poi adesso Cansello è tornato fuori con la cessione, ok? Mi aveva detto alla fine dello scorso mercato della stagione 2018-2019 che la Juventus non avrebbe voluto vendere Higuain al Milan, avrebbe voluto trattenere Higuain come partner di Cristiano Ronaldo, ma aveva in testa di vendere questo ragazzo qua, questo signorino qua, Paolino Di Bala. Perché non era contenta di Di Bala sotto tanti punti rivista, dal campo al fuoricampo. Non ho idea di quali fossero questi motivi, non lo so, assolutamente non lo so. Però in campo, per quanto mi riguarda e mi fa male dirlo perché io sono calcisticamente innamorato di Di Bala e delle sue qualità, fa male, fa male veramente. Ma non credo che Di Bala sia un giocatore di quel livello, di quel livello, di quella pasta di cui sono fatti fuoriclasse. Messi, Ronaldo, quando avevano l'età di Paolo Di Bala avevano già fatto la differenza in lungo e in largo, ok? Si è parlato tanto di Di Bala come rete di Messi, ma Di Bala e Messi non saranno mai due giocatori paragonabili, o almeno in questo momento, almeno che Di Bala non possa finalmente esplodere, magari proprio con Maurizio Sarri, magari proprio con Cristiano Ronaldo, sarei contentissimo. Ma dubito che la Juventus possa riuscire ad avere un crack di livello mondiale con Paolo Di Bala, nonostante in pochi anni la Juve abbia già segnato tantissimi gol, alcuni anche pesanti, ma non è mai stato così determinante a livello europeo. In Serie A lo è stato, ha fatto delle stagioni da doppia cifra, da 20 gol a stagione, ottime, bellissime, ha avuto dei tratti in cui sembrava veramente un giocatore importante, ma la squadra doveva giocare per lui. In questo momento anche Sarri l'ha già fatto capire che la squadra giocherà per Cristiano, ok? Quindi se Di Bala si metterà a disposizione di Cristiano potrebbe anche essere il partner ideale, fare quello che faceva Benzema in un modo o nell'altro, perché ovviamente Benzema aveva altre caratteristiche fisiche più che tecniche, perché ovviamente Di Bala è più tecnico di Benzema, ma è molto meno fisico. E quindi sarà difficile anche fargli entrare nel cervello che non sarà la stella della squadra, non sarà il nome in più, non sarà la Juventus di Paolo Di Bala, sarà la Juventus di Cristiano Ronaldo con Di Bala come spalla, dovesse ovviamente sempre rimanere. Però probabilmente non ci sarà neanche il tempo per ingestrare Wayne, o comunque ci sarà il tempo per ingestrare Wayne e non Mandzukic, perché come abbiamo già detto Icardi che vuole rimanere all'Inter, Dzeko che forse rimane alla Roma, il mercato che è bloccato, Lukaku che magari non va all'Inter anche se il Manchester è aperto a trattare la cessione di Lukaku con altri club. In questo momento c'è un casino ragazzi, c'è un cacchio di casino, sembrava un Rebus tanto facile, sembrava facilissimo, proprio una cazzata. Dzeko che va all'Inter per una manciata di soldi perché è in scadenza, Icardi che va alla Juve, Lukaku che va all'Inter, post, Iguain che va alla Roma, tutto incastrato, la Juve che magari vende Di Bala all'estero, ci potevano stare tutte queste cose. Invece a pochi giorni dalla chiusura del mercato inglese ci ritroviamo con tutte le squadre che devono cercare di incastrare chi più ne ha più ne metta, la Roma che forse non ha tempo di cedere Dzeko, Icardi che vuole rimanere all'Inter, Idi Bala che vuole rimanere alla Juve, Iguain che vuole rimanere alla Juve, una volta non era proprio così, cioè se la Juventus diceva, eh vabbè te vuoi rimanere però io ti voglio vendere, non ci si pensava tanto prima di dire, mi dispiace io sono la Juve e decido io. Invece in questo momento Iguain sta facendo pressione e vuole rispettare il contratto, dato che l'anno scorso non si è trovato bene fuori dalla Juve. Questo signorino qua che si era strappato mentre apriva il cappello e sembrava destinato a scappare in Inghilterra, non era convinto della soluzione Manchester, l'ha fatto capire chiedendo delle garanzie tecniche importanti, chiedendo tanti soldi, chiedendo i diritti d'immagine, voleva diventare la stella, la star, uno dei giocatori più importanti ai livelli di Di Bala, ai livelli di De Gea, ai livelli di Alexis Sanchez. Il Manchester non se l'è sentita, Solskjaer ha visto che Di Bala non era convintissimo e probabilmente mi viene anche da dire che il cuore del Manchester ha prevalso in questa storia, perché mi metto nei panni di un dirigente della Juve, sto trattando un giocatore, metti sto trattando Lukaku, ok? Io gli faccio anche una buona offerta, però lui mi risponde, però io voglio essere migliore di questo, voglio prendere più di quell'altro, voglio giocare più di Tizio, voglio esultare come Caio, voglio la maglia di Sempronio, e allora mi viene a dire, cazzo ma tu vuoi venire a giocare davvero alla Juventus sul Manchester United, o per te è l'ennesimo trampolino per provare a coronare la carriera che non è neanche sbagliatissimo, però veniamoci incontro, non è che ti sto dicendo vieni a giocare per me e ti do due birra al mese, ti sto offrendo dei primi euro, dei contratti importanti, una maglia importante, un campionato importante, un club che sa di storia, devi avere un po' di rispetto nei miei confronti, invece Di Bala ha proprio fatto capire che tra Juventus e Manchester lui non può scegliere il Manchester, almeno che non gli propongano veramente di diventare il nuovo crack del Manchester United, e magari anche Solskjaer, che comunque è manager perché è un allenatore inglese, avrà detto ragazzi questo non vuole venire, comunque non è attratto così tanto dalla dimensione Manchester United, fa lo stesso, vediamo se riusciamo a vendere Lukaku lo stesso, vediamo se riusciamo a incastrare Manzowicz lo stesso, Paolo Di Bala per quanto mi riguarda, è un giocatore della Juve e rimarrà un giocatore della Juve, io lo ammetto, lo ammetto, in questo momento sono elettrizzato, ho un'adrenalina addosso ragazzi che non riesco a spiegarla, perché per quanto mi riguarda Paolino mio era già andato, era già un giocatore del Manchester e noi mangia Lukaku, ora è cambiato tutto, se la Juventus vorrà davvero valorizzare questo scambio economico con Di Bala dovrà muoversi e chiedere scusa al Manchester, parlare con Di Bala che comunque questa mattina, dato che lo caricherò lunedì mattina, sta facendo le visite mediche con la Juventus, perché a tutti gli effetti è un giocatore della Juventus, vedremo se riuscirà a incastrare qualche altro scambio, se riusciranno a cominciare Di Bala, se invece Di Bala punterà i piedi e dirà no, io voglio rimanere alla Juve, io voglio stare qua, io sto a chi, dirà Paolo Di Bala, però sono elettrizzato, sono contento, sono carico, perché un colpo di scena così improvviso nel calcio mercato di inizio agosto, che sembrava bruttissimo un calcio mercato fatto con i piedi, veramente io non me l'aspettavo e adesso aspetto l'ennesimo colpo di scena, spero che si riapra più questa trattativa piuttosto che che si concretizzi quell'altra, ma spero davvero di non cedere Joao Cancelo, non voglio Danilo, per l'amor del signore teniamo Cancelo e non prendiamo Danilo, delle due vendiamo Paolo Di Bala per 100 milioni cash, 80 milioni cash e teniamo Cancelo, mi dispiace Paolo, o se no puoi fare il terzino destro? Chiedete su Instagram a Di Bala se può fare il terzino destro, magari si adatta, magari abbiamo scoperto di avere un talento incredibile in rosa e neanche lo sapevamo.